Bentornati allo Spazio Conad di Grotta a Mare. Anche quest'anno come lo scorso anno faremo e rifaremo il Prodetto La Sammettese e Rospo in Botacchi in collaborazione con lo chef Federico Palestini. Grande successo lo scorso anno, grande successo sarà pure quest'anno. Vi aspettiamo per avere la stessa conferma e la stessa tesione dello scorso anno. Benvenuti e bentornati. Ottima scelta, aggiungo io, quella di Federico Palestini, ormai considerato l'ambasciatore del Prodetto La Sammettese, non per niente l'ha presentato anche all'Expo di Milano, alla RAI e chi più ne ha più ne metta. Vista l'ottima riuscita dell'anno scorso, giusto ripeterla e complimenti direttori.